Oggi sono stati consegnati gli attestati di merito al sindaco Giovanni Palomba in rappresentanza del comune di Torre del Greco per aver aderito alla raccolta fondi per la ricerca scientifica Teleton a favore della fondazione. Torre del Greco è davvero una città dal cuore d'oro. In che maniera hanno risposto i cittadini a questo appello di Teleton? Molto positiva, nel senso che c'è stata una grande affluenza alla raccolta fondi. Ovviamente la cittadinanza si è sentita colpita, soprattutto si è sentita in aggregazione con quella che era la finalità della fondazione. Si sono tenuti dei gazebi in piazza nel periodo natalizio, tra la prima e la seconda settimana di dicembre. Ed è lì in effetti che venivano distribuiti dei cuori di cioccolato, dove con un piccolo contributo le persone potevano aderire alla raccolta fondi della fondazione Teleton. Io sono fiera del fatto che la mia città sia potuta rientrare nell'elenco nazionale dei comuni dal cuore d'oro. Io, che sono fiera di essere cittadina torrese, da qui in effetti nasce anche la soddisfazione più grande di aver in un certo qual modo aver protocollato un vero e proprio accordo con la fondazione Teleton a nome della mia associazione, di cui io sono rappresentante. Questi soldi praticamente saranno devoluti alla ricerca. Io ringrazio la città di Torre del Greco, ringrazio i cittadini torresi e ancora una volta ribadisco che siamo una città dal cuore d'oro. Mi fa piacere stamattina di aver ricevuto sia come sindaco sia come comune dalla fondazione Teleton per aver sostenuto la ricerca sulle malattie genetiche rare. Ringrazio l'associazione, Maria Orlando, i presenti e vuol dire che qualcosa di buono, ecco per qualcosa che è importante per quella che è la ricerca, anche il nostro comune è presente. Maria Luisa Maiocca e Michele Guida sono i genitori del piccolo Cristian e grazie a Cristian che voi siete entrati in Teleton e siete volontari anche di questi cuori di cioccolato fondente. Noi volontari di Teleton scendiamo in piazza affinché noi possiamo aiutare la ricerca e la scienza in modo da regalare un sorriso, la vita ad altri che sono meno fortunati di noi. Con la speranza che il progresso vada sempre avanti, con la speranza di regalare davvero un sorriso davvero a chi ne ha bisogno, soprattutto ai poco fortunati come magari il nostro figlio che stando in quelle condizioni magari aiutiamo anche altri per andare avanti con la vita. Noi crediamo in questa fondazione perché ha fatto tanto e farà sicuramente tanto per le malattie rare, quindi incentiviamo la ricerca e andiamo avanti così. L'importanza di partecipare a queste iniziative anche quando non ce n'è bisogno. La nostra forza di volontà è per andare avanti con tutto quello che ci ha insegnato la vita e praticamente facendo del volontariato aiutiamo davvero persone che magari ne hanno davvero bisogno, come d'altronde sensibilizzare tutta la sua popolazione. Bisogna sensibilizzare un po' le persone per portarle vicino a questo mondo che è il mondo di Teleton, della ricerca scientifica e delle malattie rare.